Buon martedì 5 gennaio. Proseguo sulle sollecitazioni alla riflessione che le persone mi hanno inviato in questi giorni e come preannunciato ieri, mi soffermo su un passaggio che Adriano Policicchio ha consigliato di leggere e meditare. Tratta di alcune righe del testo di Bergson su evoluzione creatrice. Lo faccio perché credo che l'essenza dell'ecologia sociale antropospirituale sia proprio questa capacità di rivedere radicalmente il nodo centrale del benessere esistenziale, della salute mentale, cioè del nostro rapporto equilibrato anche nello squilibrio con la natura della quale facciamo parte, che ci circonda con la molteplicità dei suoi esseri viventi e compreso il prossimo, gli altri diversi da noi, gli altri che per varie ragioni vengono classificati come anormali, devianti, necessitanti di adesione a un progetto di normalità. Vedete anche quello che sta accadendo in questi giorni intorno all'epidemia che dimostra sempre più come il dibattito non sia più tra scienza e ignoranza, ma il dibattito si svolge dentro a contraddizioni nelle quali i scienziati esprimono pareri diversi e dimostrano di avere pareri e non possono avere altro, naturalmente fondati sui dati di realtà, però vanno analizzati, vanno condivisi e chi governa in qualche maniera non può sottrarsi alla propria responsabilità politica dicendo me l'ha detto la scienza. L'hai deciso tu, le decisioni alla fine, tu che sei stato chiamato a governare, a mediare sui molti interessi, devi fare un'opera di governo, di mediazione e naturalmente non sei chiamato a trattenere in te, cara politica, ogni decisione, la devi mediare con le controversie esistenti, ma non voglio ragionare su questo oggi. L'ho fatto questo breve inciso per il fatto che, prendete la questione della scuola, torno, non torno, prorogo, arretro, fisso un altro giorno, di fronte a una evidenza scientifica che dice guardate la scuola in sé non rappresenta un fattore di rischio, sono altri fattori di rischio eppure la politica si concentra a definire le relazioni di potere su un argomento irrilevante sul piano scientifico, anche sospendendo la scuola, ponendola in una condizione anomala come è la didattica a distanza, abbiamo risolto il problema dell'epidemia. Creiamo un altro problema, quello della formazione delle generazioni future, che mancando del contatto concreto tra le persone rischiano di avere una formazione approssimativa. Ma vediamo che cosa ci consiglia Adriano Policicchio, relativamente alle questioni di questi giorni, cioè come sarà il nuovo anno, quali sono i propositi, qual è il progetto futuro, quando una persona sta male, quando il suo comportamento sembra incoercibile relativamente alla forza dissipatrice che contiene, ci si mette a tavolino, adesso tu fai questo, quell'altro, facciamo un bel progetto, vedrai che poi tornerai, come dicevo precedentemente, a essere normale, ti riconosceremo per quella persona che eri e ci sottraiamo al suo di venire. Lo consegniamo attraverso il progetto terapeutico, progetto che descrive perfettamente come si deve comportare, attraverso il progetto terapeutico noi giorno dopo giorno immaginiamo che accadrà qualcosa che è dell'ordine delle aspettative di normalità. Naturalmente la persona che diventa oggetto di costruzione architettonica del proprio futuro, già scritto sulla carta come dovrebbe essere, quella persona cosa fa? Si lascia un po' andare, si fa un po' forgiare, dopodiché tira fuori il suo progetto. Il suo progetto che magari era fatto di una grandiosità, di un'immagine di sé, di un'aspettativa, tutti i progetti esattamente gli stessi che i normali costruiscono, anche i devianti hanno un progetto, è molto simile a quello dei normali, del fatto di diventare potenti, avere ricchezza, avere successo, vivere in un corpo attraente, soprattutto insensibile all'usura del tempo, no farò di tutto, ecco tutto questo è dentro all'idea del progetto, e vediamo che cosa dice Bergson relativamente alla costruzione dei progetti, dell'evoluzione creatrice. Ma se l'evoluzione della vita è tutt'altro che una serie di adattamenti all'ambiente, che cosa ci sta dicendo Bergson? L'evoluzione della vita, evidentemente l'ha scritto, precedentemente, è tutt'altro che una serie di adattamenti all'ambiente, non è un semplice adattamento all'ambiente, l'evoluzione della vita. noi chiediamo a tutti di adattarsi all'ambiente, di stabilizzarsi, in fondo l'espressione psichiatrica il paziente è stabilizzato, l'alcolista è una condizione di astinenza stabilizzata, evoca un'immagine di adattamento all'ambiente che non ha nulla di un carattere evolutivo, definisce una staticità, perché è un adattamento che immagina che ci si possa fermare lì, che si sia raggiunto l'equilibrio perfetto, senza oscillazioni. Ripeto, ancora perché questo è un passaggio che dobbiamo tenere molto presente nel processo di crescita e maturazione, non di adattamento all'ambiente. il club non usa due termini sostanzialmente, due espressioni, il cambiamento e l'adattamento, usa un'altra terminologia, crescita e maturazione, cioè evoluzione. E' tutt'altro che una serie di adattamenti all'ambiente a circostanze accidentali, non è un adattamento a quella circostanza specifica nella quale ci troviamo, senti, visto che il disagio spirituale è l'incapacità di accettare se stessi, semplicemente accettati per quello che sei, è morta lì, non andiamo oltre. Quanta gente frequenta i club accontentandosi per lunghi periodi di una semplice astinenza, drammatizzando oltre misura la ricaduta, come se quel progetto fosse crollato. Allora si cercano altri progetti che riportino a una stabilizzazione, un adattamento di circostanze, condizioni ambientali che in qualche modo esprimano in maniera perseverante l'astinenza e evitino la ricaduta. Un progetto terapeutico che avesse la pretesa di eliminare definitivamente, in virtù dell'efficacia della sua progettualità, la ricaduta, è un progetto terapeutico illusorio e che non trova assolutamente una caratteristica evolutiva dunque vitale. Essa non è questa evoluzione della vita, essa non è neanche la realizzazione di un piano. Se una persona si rivolge a mani espertici, ma mi dica qual è il piano terapeutico? Si usa anche questa espressione, quando uno prende un farmaco importante e costoso e chiede di poter usufruire dei benefici della sanità pubblica, deve accompagnare la sua richiesta del farmaco prescritta del medico da un piano terapeutico del medico che, naturalmente, che cosa fa il piano terapeutico del medico? Garantisce che quel farmaco sarà efficace e stabilizzerà la persona. Anche se entrassimo nel merito di un'idea di guarigione, la guarigione inevitabilmente rappresenterebbe la realizzazione di quel piano, fatto di una normalità presunta che è alla base della devianza stessa. L'alcolista è chiamato sostanzialmente ad astenersi per valorizzare la bontà del bere normale, al quale, naturalmente, lui, come tutti gli altri, tutti i bevitori, aspirano, non facendo nessun passo evolutivo nel senso di crescita e maturazione dentro alla contraddizione del consumo di bevande alcoliche. Naturalmente i club non vedono come qualcosa da demonizzare o da affidare al proibizionismo, vedono come una contraddizione rispetto alla quale ci si mette in gioco, si fa una scelta, non veramente astinenziale, ma di prospettiva verso la sobrietà e, ripeto, come ho già fatto molto spesso in queste riflessioni, l'alcol è solo un esempio, noi potremmo applicarlo su tutte le categorizzazioni relative alla salute mentale, ma comunque anche alla salute in generale, che ha sempre una dimensione evolutiva ed ecologica. Un piano che, non dico garantisse, ma facesse ventilare l'idea che è possibile diventare immortali, è un piano che è assolutamente un'operazione di falsificazione della realtà, perché il processo evolutivo prevede anche la fine dei percorsi e la vita continua anche quando vi è consapevolezza che vi sia la morte che fa parte del processo evolutivo e credenti nel cristianesimo giustamente sono convinti che la parola di salvezza ha liberato l'uomo dall'angoscia della morte e la vita ha sconfitto la morte. E non è una credenza da creduloni, è la descrizione perfetta del processo evolutivo della vita. Un piano è dato in anticipo. Quanta scienza ha cercato qual era il piano remoto, cercando le leggi universi universali di natura. Assolute, immodificabili, si cerca dov'è il piano. Qual è il piano di fondo? Da dove nasce tutto questo? Un piano è dato in anticipo. Esso è rappresentato, o almeno rappresentabile, prima di essere realizzato. Il piano è scritto prima della sua realizzazione. Lo so prima, prima che sia realizzato. realizzato nei particolari. Ma il piano c'è scritto prima. La sua esecuzione completa può essere rinviata a un futuro lontano o addirittura rinviata all'infinito. l'importante è che ci sia il piano. Il piano del recovery fund, il piano di restituzione, di ristoro, di consegna di denaro, perché quella forma di sviluppo rimanga assoluta e immodificabile. Il piano dello sviluppo economico anti-ecologico, fondato sulla predazione dell'ambiente, sul profitto e sulla guerra di tutti contro tutti, con fondamento nell'egocentrismo. Questo è il piano. E se oggi non si può realizzare, pazienza. Si trarranno degli aggiustamenti, ma quello è il piano per l'infinito. Si può anche posticipare all'infinito, ma noi continueremo a credere, in maniera bigotta, che quel modello di sviluppo sia quello al quale siamo stati consegnati. Perché è quello vero, quello intelligente. In realtà è una falsificazione della vita stessa. Tuttavia, se ne può formulare l'idea fin d'ora, in termini dati attualmente. Cioè, il piano può essere formulato oggi. Qual è il modello di sviluppo? Ce l'hanno già detto, quello che c'era prima. Se oggi non si può portare avanti, pazienza. Si può procrastinare all'infinito. Ma noi continueremo a vivere in un blocco esistenziale. Una incapacità di crescere e maturare. Al contrario, se l'evoluzione è una creazione che si rinnova incessantemente, fate molta attenzione a questo passaggio. Se l'evoluzione è una creazione che si rinnova incessantemente, essa via via crea non solo le forme della vita, ma le idee che permetterebbero a un'intelligenza di comprenderla in termini che servirebbero a esprimerla. Allora, guardate, questo è un passaggio esistenziale fondamentale nel processo di cura ecologico-sociale antropo-spirituale. Sembra complesso, ma non lo è. È di una semplicità assoluta. La vita, l'evoluzione, è una creazione che si muove incessantemente anche in questo tempo di epidemia, anche nel nostro drammatico incontro con un virus che ha fatto un salto di specie e che sta modificando. Il virus non ha un piano, non ha un'intenzione. fa parte del processo evolutivo della natura. È accaduto qualcosa al quale anche noi abbiamo contribuito di sicuro, eh? Per cui ci troviamo in un processo evolutivo che non può essere letto alla luce del piano che avevamo immaginato essere la normalità e il progresso, eh? perché la creazione è un incessante processo evolutivo e che via via crea le forme della vita. Noi siamo in una fase evolutiva che costruisce nuove forme della vita e anche le idee che permetterebbero all'intelligenza di comprendere la vita in termini che servirebbero a esprimerla. Comprendere la vita per esprimerla significa entrare in questo processo evolutivo. Che cosa significa per il sofferente tutto questo? Che si svela ai nostri occhi prima di tutto che non c'è un piano, che sta accadendo qualcosa di evidente che cambia le nostre idee sulla vita, che le fa evolvere perché la vita oggi ha bisogno di altre idee per poterla esprimere. E credo che l'ecologia profonda, l'ecologia integrale, l'ecologia sociale sia l'idea nascente che potrà esprimere la vita senza diventare un piano o una ideologia, ma semplicemente un luogo attraverso il quale noi cerchiamo di costruire il nostro processo di adattamento alla vita. Vale a dire che il futuro supera il suo presente. Noi invece siamo inchiodati al presente e pensiamo di riportarlo nella sua presunzione di normalità nel futuro. Anche un'espressione sintomatica è un invito ad abbandonare il presente, da qui ed ora naturalmente, per poter procedere in un futuro che noi non possiamo programmare e non potrebbe prendervi forma in un'idea. Il futuro non possiamo raffigurarlo semplicemente con un'idea. Ci dobbiamo lasciare andare di volta in volta e ecologicamente costruire idee che abbiano un carattere evolutivo e non difficilità. Se la vita realizza un piano, essa dovrà manifestare un'armonia sempre maggiore a mano a mano che andrà avanti. Se ci fosse un piano, la vita dovrebbe dimostrare sempre più androponia. Allora oggi la vita che viviamo, che è apertamente angosciante e disarmonica anche per ragione dell'epidemia, evidentemente nega l'esistenza di un piano. Così la casa manifesta sempre meglio l'idea del suo architetto via via che viene alzata pietra su pietra. Un architetto costruisce l'idea della casa, poi pietra su pietra si realizza. E questo è il fondamento dell'illusione dell'idea progressista, il piano. E' un'idea molto positivista, molto riduttiva. Ci metto a tavolino, sono intelligente, faccio tutto, pianifico, deforesto, creo condizioni di estrazione di materie prime, il petrolio, guarda tutto bellissimo. Tutto va avanti, quella espressione straordinaria di Agambea, arriviamo al capitalismo comunista, che realizza i piani, piani quinquennali o chissà di quale lasso temporale, tutto si realizza. Al contrario, se l'unità della vita è tutta nello slancio, l'unità della vita è nello slancio, non nel progetto, che la spinge sulla strada del tempo. L'unità della vita è lo slancio che la spinge sulla strada del tempo, quindi non è la realizzazione di un progetto. L'armonia non sarà avanti, ma indietro, l'armonia non sarà nella realizzazione del progetto, ma l'armonia è costantemente presente nella vita, è lo slancio vitale che ti porta verso il futuro, anche nelle condizioni che sembrano drammaticamente negare l'armonia stessa. O noi la acquisiamo come principio vitale, non come realizzazione del progetto, o siamo destinati a vivere una costante illusione e delusione. L'unità deriva da una vissa atergo, c'è una forza che è a posteriori, ci spinge. Adesso noi ci opponiamo a questa forza, perché vogliamo essere noi gli architetti dell'armonia. Ma è la vita che è armonia. Essa è stata all'inizio come un impulso e non è posta alla fine come attrazione. All'inizio come impulso e non alla fine come attrazione. La fine come attrazione è l'illusione di una aspettativa progettuale. Ma se posta all'inizio, nel processo evolutivo, noi siamo chiamati a esprimere nella pienezza la forza vitale alla quale apparteniamo. E questo non riguarda solo il rapporto con l'ambiente, riguarda il nostro modo di porci nelle relazioni. dobbiamo cogliere la nostra vocazione evolutiva, non la nostra presunzione di essere architetti di un futuro fondato sul progresso realizzativo di quel progetto fondato magari a sua volta su solide basi scientifiche il sole dell'avvenire. L'ecologia si muove su tutt'altro ambito e questa ecologia ci riporta inevitabilmente a dover ritrovare lo slancio evolutivo che ci precede. E questo è lo spirito nel quale il processo di crescita e maturazione nel club dovrebbe rappresentare la spinta vitale che non ha dei progetti di realizzazione ma la bellezza anche nella difficoltà, anche nella ricaduta, anche nella persistenza del disturbo mentale, la bellezza di essere coprotagonisti di un processo evolutivo al quale apparteniamo e che non è la realizzazione di un progetto ma semplicemente la libera espressione di una forza vitale. Buona giornata a tutti. Grazie.